Per qualcuno indigesta, altri invece se la trovano inclusa nel conto e non ci badano. Ma in Italia la tassa di soggiorno è ormai una realtà, un balsello turistico che varia da città a città. I più critici, gli albergatori che cercano di correre ai ripari, tra questi Ennaco Tels che fino al 31 dicembre 2013 pagherà ai propri clienti la CityTax. Completano l'iniziativa promozionale della catena alberghiera spagnola, colazione e soggiorno gratuiti per i bambini sotto i 12 anni.